Mi è appena arrivato questo messaggio, cioè tipo 20 minuti fa, ho appena risposto. Il messaggio è questo. Secondo te, quanto dovrebbe durare una frequentazione prima di fidanzarsi? E io? Un annetto. E lei? Così tanto? Ovviamente la mia è stata la risposta che do il 90% delle volte, cioè una faccia disperata. Perché lasciare andare i discepoli a letto tranquilli quando li puoi rovinare la nottata? Spiego la mia idea, perché è chiaramente un'opinione molto personale. Ovviamente per chi non dovesse avere chiaro questo concetto, tutti i miei video sono mie opinioni personali, a parte qualche volta che parlo di qualche studio scientifico, ma per il resto sono le mie opinioni. Magari molto efficaci, ma rimangono sempre comunque le mie opinioni. Qui ha maggior ragione. Per molte persone fidanzarsi, mettersi insieme, chiamatelo come volete, dopo un anno è troppo. Ma il ragionamento che faccio io è questo. Innanzitutto c'è la regola dei sei mesi. Cioè un uomo prima dei sei mesi in realtà non sa che cosa sta facendo, non lo sa neanche la donna, lui potrebbe avere un'idea di non essere realmente interessato. Ma se è realmente interessato, neanche lui lo sa. Perché un uomo minimo consapevole di sé sa che gran parte delle sue emozioni in quei primi sei mesi sono dovute agli ormoni. E molto probabilmente, passati quei sei mesi, l'interesse crollerà nei confronti di quella ragazza. Un uomo ne è proprio consapevole. E questo è un primo punto. Il secondo, quindi adesso comprendo anche la donna, è che nel primo anno, si spera nella migliore delle ipotesi, si è innamorati. Ora, l'innamoramento è uno stato alterato della coscienza. È come essere ubriachi. Allora, il ragionamento è molto semplice. Voi vi fidanzereste mai da ubriachi? So che molti di voi rispondono Sì, certo, assolutamente, sotto effetto di qualsiasi roba mi fidanzerei. Secondo me è un ragionamento che non ha senso. Perché io prendo il mettersi insieme in maniera molto seria. Cioè, per me è un impegno. Non dico che qui vaga a sposarsi, ma poco ci manca. Cioè, per me è un impegno serio. E io non prendo un impegno se so di non essere totalmente padrone delle mie facoltà mentali. Quindi, aspetto un po'. Poi è ovvio che in quell'anno c'è un crescere del rapporto. E magari il mio crescere del rapporto è molto più serio del fidanzamento di tante persone. Ok? E quindi probabilmente è qui l'incomprensione. Cioè, il fatto che per me il fidanzamento sia qualcosa di veramente serissimo per sempre, fra virgolette. E per molti invece sia un Ma no, dai, ci conosciamo. Beh, vabbè, allora va bene tutto. Allora ci si può mettere insieme anche dopo due settimane, ci si conosce e poi ci si lascia. Per me non è compresa l'idea di potersi lasciare. Poi è ovvio che c'è la possibilità, ma l'idea non è quella. Ecco perché l'hanno. Perché la mia idea è quello di aver testato la persona, testato me stesso, testato il rapporto e inoltre essere totalmente padrone delle mie facoltà mentali. A quel punto prendo una decisione.